La legge regionale con cui si vietano i comizi elettorali è antecedente ai ricorsi presentati dagli ex amministratori provinciali e le questioni di legittimità costituzionale sono infondate. Sono queste le motivazioni che hanno spinto i giudici del TAR Palermo a rigettare i ricorsi. La legge regionale numero 14, posta a fondamento del decreto assessoriale del 19 marzo 2012, è entrata in vigore solo il 16 marzo. In ossequio al principio di irretroattività degli atti amministrativi e normativi non può annullare il decreto di indizione dei comizi elettorali. Questo è il primo punto che ha decretato la bocciatura dei ricorsi. Secondo e terzo punto riguardano invece la legittimità costituzionale a cui gli ex amministratori si erano appellati, che vengono rigettati ugualmente dai giudici palermitani che li ritengono infondati. La legge 14, dicono i magistrati nella sentenza, non sopprime in alcun modo le province regionali. Il principio democratico non risulta violato in quanto per la cessazione del commissariamento viene indicata una data vicina, il 31 marzo 2013. Il rinnovo degli organi scaduti avrebbe provocato un aggravio per la spesa pubblica e la prorogazio degli organi in carica con sospensione dell'indenità goduta era infattibile perché sarebbe stata illegittima per la stessa legge 14. La scelta del commissariamento dunque è legittima. La terza sezione del Tar rigette i ricorsi e dispone che le spese siano compensate tra le parti costituite. Giovanni Scarsu resta al suo posto con poteri di giunta e consiglio provinciale.